La cosa che è terribile quando esci da un coma è che tu hai un piede dall'altra parte e un piede nella terza dimensione. È come se tu fossi frammentato. Io mi ricordo che avevo un emiparesi sinistra e chiesi alla mia insegnante di ginnastica, siccome non riuscivo, mi aveva messo un pezzo di legno per te, devo saltarla a piedi pari. Non riuscivo a saltarla a piedi pari, ci facevo così. No, devi saltare, non ce la faccia a saltare. Io gli chiedo un giorno, ma io chi sono? Mi ricordo che gli chiesi questo. E mi dice, tu sei Marco Columbro? Dico, ah, e allora? No, ma io chi sono? Cioè, io non riuscivo a capire, ecco perché ti vedi frammentato, perché è come se tu fossi mille pezzi, devi imparare a camminare, a parlare, a 33, a 78 giri. Come faccio a fare teatro?